Sono i vertici della frangia violenta. Tre dipendenti della GESIP che organizzavano e inscenavano violente non autorizzate manifestazioni di protesta allo scopo di turbare l'avvertenza dell'azienda municipalizzata palermitana. Finisce in carcere Giacomo Giaconia, 55 anni, pregiudicato palermitano. Ai domiciliari Salvatore Spatola, pregiudicato di 50 anni, e Francesco Madonia, 54 anni, entrambi palermitani. Le indagini che hanno ricondotto ai tre arrestati si basano su episodi accaduti tra il 2011 e il 2012. Blocchi stradali, occupazioni degli uffici comunali e della GESIP stessa, blocco dei treni. Sono solo alcune delle iniziative della componente più violenta dei manifestanti GESIP. I primi tre sono identificati ma questi in quanto promotori. Ovviamente l'indagine riguarda molti altri ma che non rientrano in questa misura cautelare per fatti minori, non oggetto di misure cautelari al momento. Cosa gli contestate? Ai primi tre di oggi? Resistenza e violenza pubblico ufficiale, ovviamente in diverse circostanze, non sempre tutte e tre insieme per i fatti che ho enunciati poco fa e interruzione di pubblico servizio aggravata. Aggravata dal fatto che questi tre in diverse circostanze appunto ne erano i capi, i promotori o gli organizzatori delle manifestazioni che hanno comportato l'interruzione o il turbamento della regolarità di un servizio pubblico.